Non ce l'abbiamo, Alejandro, l'amico di Jack! Ma sì, Alejandro! Quello con Alejandro è un incontro importantissimo per Jack. Si conoscono una sera al Sirocco, un club madrileno molto alla moda. Sono lì con altri amici e chiacchierando scoprono di essere compagni di facoltà. Alejandro è al terzo anno. Fra i due c'è subito una grande intesa, anche perché hanno molti interessi in comune. E anche Alejandro gioca a pallacanestro. E ama il film horror. E viaggia appena può. E già stato.